Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Panico in Italia mentre un anziano rischia la vita in diretta su Rai 1. Durante una trasmissione su un'alluvione in Emilia-Romagna, Marco Liorni ha notato subito l'incidente. La corrispondente da Conselice, in provincia di Ravenna, ha riferito che i cittadini sono stati ordinati di lasciare le case, poiché non saranno più consegnati pasti a domicilio. Durante l'intervista a un anziano di nome Giuseppe, egli ha rifiutato di abbandonare la propria abitazione, dove vive anche con la consuocera. Ha affermato di aver affrontato altre alluvioni in passato e ha insistito nel non lasciare la sua casa né il suo cane. Tuttavia, poco dopo l'intervista, Giuseppe ha avuto un malore e Marco Liorni ha chiesto un aiuto immediato. La giornalista ha poi riferito che l'anziano era esausto dopo una giornata di duro lavoro.